ciao a tutti mi trovo al mercato di padova e anche oggi vi farò vedere le cose belle bellissime che costano poco che si può trovare al mercato i capotti max mara si può trovare al mercato ovviamente le etichette sono state tagliate però la qualità si vede adoro questo banco quasi può trovare le cose particolarissime una volta era il negozio adesso la proprietaria ha preso decisione di vendere solo al mercato ovviamente perché c'è più passaggio le è molto simpatica adoro venire qua anche per una chiacchierata in realtà il mercato non è solo i prezzi bassi e la qualità dei produttori della zona il mercato è anche una bella chiacchiera che adesso manca manca tantissimo dicono che le donne italiane preferiscono un colore nero investirsi ma in realtà vedo che ce ne sono tantissimi colori belle è vero è vero dobbiamo fermarci no adolescente però ora vedo i ragazzini sono un po più giovane mi sono piaciute queste giacchine kimono che sono facili da portare facili da abbinare stanno bene con un abito o con una gonna anche ovviamente con un jeans diciamo un'opera d'arte perché il disegno viene fatto in ora magari eccola si vedono un pochino più sul web che in giro sì infatti io qua è proprio un prezzo le vendo a 65 però è un'opera d'arte perché comunque è una tessitura loro fanno tappeti a razzi pazzeschi ed è una chicca perché appunto anche con un giochettino semplice sì sì rimane ecco una di quelle fribolezze femminili che che fanno bene l'umore no poi ecco queste le ho fatte fare io però no è perché loro sono proprio dei maestri che poi questo tipo di filatura la fanno in tantissimi altri paesi perché anche io pensavo a fare delle giacche però Padova non è ancora pronta non è ancora pronta ma è veramente un disegno molto famoso e poi lo usano anche tantissimi produttori sì 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 però in realtà cioè proprio la lavorazione perché il filo viene colorato sì bravissima sì sì e dunque il disegno viene un po' come quando si fanno perché poi oramai a con noi facciamo fatica immagina sì sì mi ripeti il tuo il blocco no perché fatti questo pronta sì moda sì EGD 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 bravissima moda EGD eh sì perché poi ti compri vai poveri anni Sì questa? sì questa collana bellissima l'ha presa proprio qua 15 euro è un tesoro in realtà torno sempre a questo banco perché qua trovo le collane le collane veramente particolari belle a poco prezzo grazie che adesso i tempi adesso a sapere che non era un gestione vicinale ciò è scritto un cartello Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rimanenze del negozio a prezzi vari. Veramente si può trovare le cose molto belle. È una fortuna trovare un maglione come questo. Magari per cercare un maglione che ti piace, che tu hai in mente, che hai già immaginato come lo indossi. Difficile in un negozio e poi in un altro. Veramente bisogna venire qua al mercato. C'è tantissima scelta e i prezzi veramente favolosi. 24, 25 e 15, 40 grazie. Grazie. Tutti i campionari in offerta a prezzi vavolose. Guardate i prezzi e la qualità che tu hai. Sono questi i vestiti, ma anche i giuglielli, ma anche le borse. In realtà ci sono tantissimi oggetti veramente belli e carini che si può trovare al mercato che ho visto oggi. Per oggi è tutto, ma ci vediamo tra poco. Vi saluto, buona giornata a tutti. Ciao, ciao. Grazie. 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 Grazie.